Mancano ancora tre partite e manca una finale di Coppa Italia, quello sicuramente farà parte di un bilancio ultimo che sia giusto fare a suo momento. Però io non posso negare, questi numeri qua li conosco e credo che siamo stati sempre molto consapevoli di quello che stavamo facendo. Non volevo sempre tornare con la settimana, ma purtroppo è stata lì un po' che ha macchiato un pochettino tutto questo percorso, che è un percorso enorme, che se andiamo a vedere dal 6 gennaio a questa parte nessuna altra squadra ha fatto così tanti punti. Quindi quello rimane sempre un po' quella piccola amarezza che non ha portato proprio al titolo. Ecco allora quello che volevamo tutti, siamo stati molto vicini, ma è vero che pensare a quello che questa squadra ha vissuto e quello che ha fatto fino adesso, finire questa stagione, ripeto, con un campionato del mondo, con una Supercoppa, con una finale di Coppa Italia e il secondo in classifica, è veramente una stagione che sappiamo tutto quello che è successo, ma comunque credo che alla fine è venuta fuori una cosa positiva. Guarda, noi manteniamo l'obiettivo di sempre vincere, l'Inter è tutte le partite, quindi credo che sia importante mantenere l'alto livello, è importante mantenere la concentrazione, abbiamo ancora una finale di Capitale, abbiamo due partite di campionato, vogliamo mantenere un livello di risultati che è stato fino adesso, un livello di gioco, anzi se possibile migliorarlo, quindi credo che sia una partita che ci confrontiamo con la terza in classifica, una squadra importantissima. Guarda, da parte dell'Inter non c'è mai stata la guerra, io credo che il mio rapporto con Ganso c'è sempre stato e c'è ancora. Non abbiamo mai fatto un passo per una possibile trattativa, perché non era il momento. Ribadisco, credo che il suo momento era l'entrata dell'infortunio, ha avuto un altro infortunio perché è stato fuori tanto tempo, ha giocato dopo tante partite di fila, ha avuto un infortunio muscolare per chi ha perso sette mesi a livello di preparazione. Quindi credo che questo sia normale. Pensavo già prima che il suo momento era un po' recuperare, rientrare in forma, recuperare la nazionale, credo che questa è la sua priorità, quindi non abbiamo mai fatto un passo, anche perché non era neanche il momento di farlo. Quindi i contatti anche a livello personale ci sono stati, ci sono, ma solo quello, non c'è mai stato niente in più. Non è mai stato il derby, vero, litigando, non c'è mai stato questo. Dopo il mercato credo che sia normale, è un momento in cui tutti si muovono. Ci sono tante chiamate, ci sono tanti contatti, ma credo che sia normale un sondaggio di mercato, è più studiare il mercato che veramente mettere in piedi una trattativa. Per quello ogni chiamata, ogni piccola voce su una cosa viene fuori, diciamo, la notizia, sembra che uno c'era, non c'è più, ma credo che alla fine sia una cosa un po' naturale, ma che le vere trattative sicuramente arriveranno dopo, non adesso.